Ciao! Penny, ti devo confessare una cosa, te la devo dire. Ascoltami Penny, mi conosci da molto tempo. Il presentatore del gioco delle coppie, la corrida, del rara show. Ascolta, ascolta, io lavoro, lavoro per la CIA, hai capito? E uccido la gente, ho ucciso, ho ucciso un sacco di persone, hai capito? Ho ucciso un sacco di persone. Di recente mi è venuta un'idea per un nuovo gioco a premi. Si chiama il vecchio gioco. In studio ci sono tre signori anziani con la pistola carica. Ripensano la loro vita. Vedono chi sono stati, cosa hanno concretizzato. Quanto sono andati vicini a realizzare i loro sogni. Vince chi non si fa saltare le cervelle. Il premio è un frigorifero. Per non si fa saltare le cervelle. звolate a realizzare i loro clumsy. Grazie a tutti.